Sto vivendo sereno perché io sono uno che gioca sempre per la squadra e vedo che la squadra gira bene, quindi sto lavorando seriamente in allenamento e sto aspettando la mia occasione. In questa situazione ovviamente non è facile per nessuno, io non ero abituato magari a fare le patine così, però sono tranquillo, lavoro sereno, credo che la mia occasione arriva.